Roma incontra il mondo a Villa Ada, il programma della settimana La settimana dal 24 luglio al 30 luglio della 24esima edizione di Villa Ada Roma incontra il mondo Villaggi Possibili e pronta come sempre ad animare le serate capitoline con i migliori nomi della scena nazionale, Motta e Paolo Benveniù sono sul palco martedì, e internazionale, i Uire suonano mercoledì Non manca il teatro, a cui quest'anno si dedica un'attenzione particolare, con anelanti di Rezza e Mastrella e un venerdì di festa con la serata di Radio Rock, che festeggia il suo 33esimo anno di attività con tutti gli speachery live degli artisti della scena romana e nazionale Lunedì 24 luglio Luciano Messenia, all'anagrafe Jepter Washington Climont. Cantautore, musicista, produttore e vocalist, è il re del rega e martedì 25 luglio Paolo Benveniù e Motta L'uno torna con un nuovo album di inediti, H3+, a tre anni di distanza e Art Hotel, l'altro con la fine dei vent'anni, l'album di esordio da solista Mercoledì 26 luglio i Uire festeggiano i loro due decenni di attività, gli inglesi che da quel punk di stampo atipico hanno saputo evolvere per primi nella new wave mescolando immediatezza, eleganza e varietà minimale Giovedì 27 luglio il teatro di Flavia Mastrella e Antonio Rezza è in scena con Anelante In uno spazio privo di volume, il muro piatto chiude alla vista la carne rituale che esplode e si ribella. Non c'è dialogo per chi si parla sotto Un matematico scrive a voce alta, un lettore parla mentre legge non capisce ciò che legge ma solo ciò che dice. Con la saggezza senile l'adolescente, completamente in contrasto con buon senso, sguazza nel recinto circondato dalle cospirazioni Spia, senza essere visto, personaggi che in piena vita si lasciano trasportare dagli eventi, perdizione e delirio lungo il muro Venerdì 28 luglio Radio Rock, la storica radio romana punto di riferimento per gli amanti del rock nazionale e internazionale, festeggia il suo trentatresimo anno di attività nella suggestiva cornice di Villa da Roma incontra il mondo A partire dalle ore 19 appassionati e ascoltatori avranno la possibilità di incontrare tutti gli speacher e assistere a uno spettacolo con i live dei migliori artisti della scena romana e nazionale Ad alternarsi sul palco, tra gli altri, Piotta, Daniele Coccia, La Scala Shepard, Folkast, Santi Bevitori, Te Castavai, Mimosa Campironi. Domenica 30 luglio Il delirante folk rock romano dell'orchestraccia Formazione aperta nata dall'idea e dalla voglia di attori e cantanti di unire esperienze diverse, rappresentano una forma innovativa di spettacolo che si muove abilmente tra musica e teatro, in una lettura assolutamente attuale . .